Lutto cittadino oggi a Torino per il bimbo morto la scorsa settimana nel crollo di una palazzina in strada Abramafame le esegue si svolgeranno alle 11 di una chiesa di Sant'Antonio Abate. L'amministrazione comunale ha disposto le bandiere esposte a mezz'assa su edifici comunali, enti pubblici, scuole di ogni ordine grado e in tutta la città sospese le manifestazioni musicali organizzate in spazi pubblici. L'autopsia ha accertato che il bambino è rivasso vittima di traumi e non direttamente investito dall'esplosione che ha portato la mamma in codice rosso. Grazie